Presidente del Pescara, perché abbiamo visto che forse il 25 novembre avete un bel appuntamento. Sì, per noi sarà un anno particolarmente speciale, torniamo in Serie A dopo 20 anni. È chiaro che il 25 sarà una partita importante perché giochiamo contro la Roma di Mr. Zeman che ha ottenuto con noi questa importante promozione. Che incrocio sarà, secondo lei, in questo momento a Pescara, quando hanno visto questo appuntamento? Che cosa stanno pensando? Io personalmente ho promesso al Mr. tre gol, spero di farglieli. È anche facile tutto sommato, forse si. Quanti ve le segnerà però perché poi c'è anche questo problema? Le partite con il Mr. possono finire con tanti gol, quindi speriamo di finire noi con un gol in più. Perfetto, grazie. Allora, grazie Presidente, in bocca al lupo anche alla Pescara, tutte le neo promosse.